Come Presidente Merito della Corte Costituzionale, le sembra che l'Italia, dopo tante condanne venute dalla comunità europea, ma anche esempi virtuosi, citati addirittura nel mondo come bollate, sia migliorata dal punto di vista della questione delle carceri, della questione penitenziaria, della questione della reclusione? A mio vedere rispetto a quando e a che cosa il miglioramento, certamente negli ultimi decenni qualche cosa si è fatta e adesso è in corso di realizzazione questa nuova riforma dell'ordinamento penitenziario che effettivamente sul piano normativo pone degli obiettivi più avanzati e contiene delle regole nuove e buone. Il problema poi è invece come si attua a tutto questo e soprattutto poi il concreto della vita del carcere, caratteristica del nostro sistema era un po' quella di essere la macchia di leopardo perché appunto lei l'ha citato bollate o altri carceri considerati come modello, poi ci sono altre situazioni completamente diverse, quindi il problema è di adeguare l'intero sistema e questo richiede non solo interventi sulle strutture, non solo interventi sulle normative, ma poi anche e soprattutto sulla formazione e la mentalità di operatori, questa è la cosa fondamentale. Non è detto che anche ultimamente si è letto di un episodio di pestaggio, di un detenuto, da parte di agenti, queste cose che dovrebbero proprio non avvenire assolutamente e invece sono avvenute. Se dovesse dire, secondo lei, l'aspetto che permane più grave, sovraffollamento seppure adesso forse un poco diminuito, oppure violenza nelle carceri, oppure carcerazione ingiusta in alcuni casi, qualcosa su cui bisognerebbe agire a breve, a brevissimo? A breve bisogna agire soprattutto sul modo in cui vivono le carceri, perché qua abbiamo un punto degli esempi, il carcere è più aperto, l'introduzione è più decisa di elementi come l'istruzione, la cultura, l'apertura alla società esterna. A Milano abbiamo tanti esempi di volontariato carcerario, associazioni di volontariato carcerario che operano, questa dovrebbe essere la caratteristica di un carcere civile, di un carcere conforme alla Costituzione, perché bisogna camminare sempre più verso la realizzazione effettiva della finalità rieducativa della pena e questo richiede tutta una serie di interventi, il lavoro per esempio, tutti i pericolosi dovrebbero avere la possibilità di lavorare, oggi in realtà sono soltanto una minoranza, quindi ci sono tantissimi elementi, soprattutto la realtà effettiva del carcere che va continuamente migliorata e cambiata.